Ecco i due top player di Futsal Faner per questa settimana. Tra i giocatori di movimento si mette in risalto Gianluca a leva. Personalità, grande fisico e senso del gol per il giovane Under-21. Un super Filippini al pala di fiore fa di tutto per sbarrare la porta al lido di Occhia. La Mirafin, anche grazie a lui, porta i tre punti a casa.